Il 13 gennaio del 1998 un uomo si dà fuoco diventando di fatto una torcia umana sotto il colonnato di San Pietro a Roma per protestare contro l'omofobia della Chiesa Cattolica verso gli omosessuali. Il suo nome era Alfredo Ormando, ma chi era Alfredo Ormando? Alfredo nasce il 15 dicembre del 1958 in un piccolo comune in provincia di Caltanisetta. Nasce e cresce in una famiglia di contadini analfabeti dove la sua omosessualità, che dichiara apertamente nel momento in cui la percepisce, non viene accettata né dalla sua famiglia né dal contesto sociale in cui vive. Profondamente credente se ne va di casa presto e cerca di emanciparsi attraverso lo studio per cercare di scollarsi da quel destino che sembrava già fissato ed entra in un seminario francescano dove spera di trovare comprensione e conforto, ma così non è. Lascia quindi dopo due anni e comincia a pubblicare le sue poesie. Era uno scrittore. Esausto per tutta la discriminazione che riceve per via della sua omosessualità, decide di togliersi la vita con un atto estremo. Un atto estremo di protesta sull'esempio dei monaci tibetani quando denunciavano la repressione e l'occupazione cinese. Poeta e scrittore, a 39 anni, arriva dalla Sicilia a Roma in treno. E alle sette e mezza di mattina entra in piazza San Pietro. Si toglie il soprabito, si cosparge di benzina e si dà fuoco. Morirà dopo dieci giorni di agonia senza mai riprendere conoscenza con ustioni di primo grado sul 90% del suo corpo. Nel soprabito di Alfredo Ormando vengono ritrovate due lettere, subito confiscate, nelle quali spiega il suo gesto. Noi sappiamo che cosa ci fosse scritto perché prima di andare a Roma ne aveva mandato coppia a Lanza di Palermo. Una per il fratello e una per i vertici vaticani. Ma la Chiesa, in un comunicato stampa diffuso poco dopo, dirà che la scelta di darsi fuoco di Alfredo era stata data dalla sua difficile situazione familiare, cercando di sviare il tema dell'omosessualità e la discriminazione da parte della Santa Sede. Oggi, il 13 gennaio, la comunità LGBT celebra la giornata mondiale del dialogo tra religioni e omosessualità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.